Oggi è il 10 agosto 2014 e nella notte di San Lorenzo sono arrivato alle 22.30 circa, ora sono le 22.50 alla croce degli Alpini 830 metri nell'alta Val Borbera per passare la notte da solo in sacco a pelo senza tenda qui alla croce. Oltre a essere la notte di San Lorenzo la luna è anche in perigeo ed è luna piena quindi una luna magnifica a la notte di San Lorenzo e la notte di San Lorenzo e la notte di San Lorenzo Ed eccomi qui, si sta abbastanza comodo, ho trovato un punto dove non ci sono tante pietre, quindi riesco a stare anche abbastanza comodo. Buonanotte, io ho dormito abbastanza bene, sono contento, sono svegliato un po' di volte logicamente, qua avevo ogni tanto dei daini, cinghiali che facevano dei versi e giustamente non è semplice dormire, però ogni tanto due ore filate le dormivo anche, quindi sono contento. Non ho sofferto tanto il freddo, solo alle 4, poi questa mattina è venuto vento forte, ma stando chiusi qua dentro, poi si stavano girati di lato per ripararsi con la schiena dal vento, e se stava bene, meno male. Adesso poi pian piano c'è il zerino. Una cosa difficile è stata che, essendo con il posto leggermente in discesa, si tende a scivolare verso il basso, come sto facendo adesso. Mi sa sì, vabbè, ho dormito fin bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.